A crescere la formazione e la competenza degli operatori sanitari pugliesi che assistono sempre più utenti coinvolti nel gioco d'azzardo patologico. Per questo la Regione Puglia ha disposto un corso organizzato dall'Ares Puglia destinato a far fronte a questa nuova emergenza. Sentiamo. Parte il 3 febbraio prossimo il primo corso regionale pugliese volto alla formazione per gli operatori dell'equip multidisciplinari che si occupano del disturbo da gioco d'azzardo. Con priorità per i 700 operatori del servizio sanitario regionale sia pubblici che appartenenti al privato sociale accreditato. Questo al fine di promuovere azioni di prevenzione dell'insorgenza del gioco patologico, di diagnosi attraverso strumenti standardizzati di cura e di riabilitazione secondo linee guide e protocolli scientificamente validati. A disporre questo corso per accrescere la formazione e la competenza degli operatori è il Dipartimento Salute della Regione Puglia organizzato da Ares Puglia. Il gioco d'azzardo è un business da 88,38 miliardi di euro annui con un guadagno per lo Stato di 7,24 miliardi di euro. Il giro di affari da gioco legale, cioè quello disciplinato dai monopoli di Stato, conta su entrate che provengono dal gioco a distanza per il 55,70% e dal gioco fisico per il 44,30%. Sono alcuni dei numeri citati dal libro Blue 2020 dell'Agenzia dei Monopoli. Il fenomeno ha registrato una crescita di quasi 5 miliardi di raccolta all'anno dal 2016, mostrando un drastico arresto solo nel 2020 grazie al Covid, che nei cinque mesi di acuta emergenza sanitaria ha imposto anche la chiusura dei punti gioco sul territorio, ma non ha fermato il gioco virtuale che invece nel 2020 è aumentato dal 35,25%. I numeri non raccontano tuttavia la drammaticità del fenomeno. La dipendenza patologica da gioco sia legale che illegale è una triste realtà. In Puglia sono quasi 900 i cittadini seguiti annualmente dai servizi per le dipendenze patologiche delle ASL pugliesi dal 2016 al 2019, con un crollo degli utenti a meno di 700 anni per gli anni 2020-2021. Un calo solo determinato dalle misure di restrizione sanitaria, ma non relativamente alla flessione del fenomeno, che rimane una criticità sociale e assistenziale. Stando ai dati provenienti dalla ASL della Regione Puglia, l'utente tipo è di sesso maschile per il 91%, con una prevalenza del fenomeno nella fascia d'età che va dai 20 ai 54 anni, mentre nei soggetti di sesso femminile il disturbo compare e va via via, sempre crescendo, a partire dai 30 anni in poi. La Regione Puglia è intervenuta da tempo sul fenomeno con tutta una serie di provvedimenti, primo fra tutti la legge regionale 43 del 2013, poi con il piano GAP 2017, poi 18 e 2019, quest'ultimo proprio con l'espressa previsione tra le altre azioni della formazione degli operatori del pubblico e del privato sociale accreditato che a vario titolo operano nel settore.